Musica Salve a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Globus Sport News Iniziamo parlando di Serie A Vingono e rimangono a pundeggio pieno dopo tre giornate Juventus, Inter e Napoli I bianconeri di Mister Allegri superano senza problemi il Lecchievo per 3-0 Mentre fatica più del previsto l'Inter contro una buona spalla Piegata da un rigore di Cardi e da una bellissima rete di Perisic Nelle posticcio serale invece Caleon, Mertens e Zirninsky Trascinano in Napoli alla vittoria in quella di Bologna Piegando i fessini capaci di resistere per oltre un'ora di gioco Pesante KO sia del Milan, sconfitto 4-1 all'Olimpico contro la Lazio Sia del Verona, letteralmente umiliato in casa dalla Fiorentina Vittoriosa al Bendegoti con un perentorio 5-0 Sugli altri campi vincono l'Atalanta, 2-1 sul Sassuolo Il Cagliari, 1-0 contro il Crotone Il Torino, che spugna il campo del Benevento con una rete di Iago Falchi in pieno recupero E l'Udinese, capace di battere 1-0 il Genoa Rinviata a causa del maltempo, Sampdoria-Roma In Serie G, prova di forza delle Catania nelle big match della terza giornata di campionato I rossazzuri battono 3-0 il Lecce al Massimino Grazie alle rete di Biagianti, Marchese e Russotto Agganciando i Salientini a 4 punti in classifica Scattando così la derudente sconfitta di Caserta Non vanno oltre lo 0-0 il Trapani contro la Sigla Leonzio e l'Agragas a Monopoli Mentre conquista la prima vittoria a stagionare il Siracusa Corsaro a Rende grazie a una rete di Mancino Lo spagnolo Marc Marquez vince il GP di San Marino e della Riviera Adriatica Tredicesima prova delle mondiali di MotoGP Tagliando il traguardo davanti a Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso Quarta la Yamaha di Maverick Vinales Con la vittoria di Misano il pilota spagnolo raggiunge Dovizioso In testa alla classifica mondiale con 199 punti Terzo Vinales con 183 Mentre resta quarto Valentino Rossi Out per l'incidente in allenamento subito una decina di giorni fa Chiudiamo col tennis Rafa Nadal ha vinto per la terza volta gli U.S. Open Conquistando il sedicesimo slam in carriera Il campione maiorchino ha battuto in 3-7 Del sudafricano Anderson Con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 In due ore e mezza di gioco Era questa l'ultima notizia per oggi Da domenica con sapienza è tutto Alla prossima Alla prossima notizia per oggi Alla prossima notizia per oggi